Non c'è soltanto il 5 e il countdown come dici tu che è importante, che è molto importante e dobbiamo recuperare una situazione non facile, quindi ci vorrà lo sforzo di tutte quante, la concentrazione da parte di tutte ma anche la condizione di tutte quante. E poi è la prima di una serie di partite molto impegnative perché noi nei primi 15-20 giorni di gennaio ci giochiamo posizioni importanti in campionato e la missione per l'Eurolega al turno successivo. Senti, proprio Lucca si giocherà qui in un pala campagnola che ci si aspetta molto motivato e come saranno le giocatrici, è motivatore sicuramente, considerando la partita in campionato qui al pala campagnola, si è vinto di due, è una partita dura, poi ecco loro è notorio giocando questa difesa molto forte, una squadra rognosa, come se ne viene a capo? Lucca farà la sua partita, dipende dalle nostre, dobbiamo sicuramente cancellare una prestazione inguardabile come quella che è stata in Coppa a Lucca e dobbiamo ribaltare con la vittoria e soprattutto dobbiamo recuperare 13 punti, quindi ci vorrà una massima concentrazione per 40 minuti cercando di mettere pian pianino, rosicchiare quei punti che ci servono per poter superare il turno, non sarà facile per i motivi che hai detto, però abbiamo le qualità e le possibilità per farlo.